Belsito Hotel Le Due Turri a mano calzati a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari www.belsitoteldueturri.it Non si ferma la nostra inchiesta sull'ofantina, la strada della paura, l'arteria della morte Dopo il nostro sondaggio tra la gente abbiamo raggiunto il dirigente della polizia stradale di Avellino Renato Alfano per capire come si muovono le forze dell'ordine su quell'arteria Via i cellulari e ridurre la velocità Questo è il messaggio finale del comandante Alfano Io metterei, insomma, ricongiungerei uomo e dirigente appostata perché quello che dico lo dico E noi uomini della polizia stradale quando parliamo parliamo con coniezione di causa Perché spesso siamo spettatori inconsapevoli del nostro malgrado di scene di autentico dolore, di tragedie Quindi ci troviamo a dover partecipare al grande dolore che affigge queste persone La gente deve capire che sulla strada non si scherza Che vanno rispettate le regole che coge la strada in maniera sistematica, assoluta Che ci sono dei comportamenti di guida che sono fortemente pericolosi Quindi uno è la velocità, l'ho detto poc'anzi L'altro è l'uso del telefonino Oggi il telefonino è diventato il nemico della sicurezza stradale Perché? Perché si pretende alla guida e guidare già una manovra di per sé complessa Che richiede molta attenzione Non solo di parlare a telefono ma anche semmai di chattare Di scrivere un messaggio whatsapp, di leggere un messaggio Cose che dissolgono l'attenzione completamente dalla guida Che creano delle autentiche tragedie Quindi la raccomandazione mia, e lo dico veramente con la mano sul cuore È quello di rispettare le principali regole Non fare un sorpasso, andare più piano Lasciare perdere il telefonino alla guida Indossare la cintura di sicurezza a tutti gli occupanti del veicolo Non solo il conducente e quello che siede lateralmente La cintura di sicurezza ricorda che è obbligatoria Anche per coloro che siedono posteriormente E per le famiglie di voler bene ai loro bambini Di ancorare dei sistemi di ritenuta I cosiddetti seggiolini Che siano omologati Perché quando non sono ancorati a questi sistemi I fatti ci dimostrano che sono proprio i bambini ad avere la peggio E per le famiglie di ritenuta